Meno poveri, un elemento finalmente in controtendenza. È il primo dato che salta all'occhio dai numeri del rapporto Caritas 2018 per la diocesi di Padova. Ma se diminuiscono gli uomini e le donne che si presentano agli sportelli sparsi nel territorio, 2239 persone in totale nel 2018, meno 8,5%, tra gli italiani si registra un aumento. Fa leva sulle immagini delle navi che arrivano e quello ha fatto molta impressione nell'opinione pubblica. In realtà sono diminuiti gli accessi delle persone di nazionalità non italiana ai nostri centri di ascolto, che dopo anni, perché frequentavano i nostri centri di ascolto, non vengono più. E i volontari ci dicono che molto spesso o sono rientrati nel loro paese o invece la maggior parte ha cercato fortuna in altri paesi europei. Insomma, parecchi stranieri lasciano l'Italia e tra i poveri crescono le difficoltà sociali. Delle oltre 2.000 persone seguite, la maggior parte hanno tra i 30 e i 65 anni, persone sole e molte donne con figli. Non è tanto solo una povertà economica, per cui non è sufficiente un sussidio, ma una povertà molto più profonda, legata a fragilità interiori, legata alla questione del stare dentro al mercato del lavoro in grandissima evoluzione, legata al tema della salute, problemi soprattutto di depressione, problemi relazionali. E poi c'è il lavoro. È un lavoro che è difficile trovare, ma anche un lavoro che è difficile da mantenere. Persone che vengono avviate verso un lavoro da centri di ascolto che riescono ad individuare attività lavorative, ma che poi le persone riescono anche facilmente a perdere. Difficile la situazione della bassa padovana, dove il rapporto tra italiani e stranieri che si presentano agli sportelli è di 6 italiani, 4 stranieri, simile a quello esistente nel sud Italia. Per l'alta padovana il problema è la casa. Noi abbiamo famiglie con un buon reddito, famiglie di origine non italiana, con un buon reddito, che fanno fatica a trovare casa e locazione. Spesso pagano anche un peso sociale, una cappa, che anche non è corretta, perché bisogna vedere sempre caso per caso, situazione per situazione, invece spesso si tende sempre un po' a generalizzare.